Il 26 gennaio ci vedremo in Gema per discutere, per analizzare la legge di stabilità del 2017 che, come ormai è consuetudine, contiene numerosi provvedimenti che riguardano l'ammissione del personale. L'argomento sicuramente più interessante per le imprese è l'integrazione e la revisione di alcune misure che riguardano il welfare, quindi i premi di risultati e i premi di produttività. Sono state previste ulteriori agevolazioni per quanto riguarda le assunzioni nelle regioni del sud del meridione, misure che vogliono estendere una serie di tutele ai genitori che hanno dei bambini piccoli e un aspetto che per le aziende comunque è marginale ma non meno importante, la revisione del sistema pensionistico che consentirà a molti cittadini e a molti lavoratori di poter accedere alla pensione con tempi più brevi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti attendere in base alla formativa precedente. Vi aspettiamo in Gema, questi sono prevalentemente gli argomenti e su questi temi noi ci confronteremo.